Il campionato di eccellenza scende in campo nel turno infrasettimanale valevole per la quarta giornata. Il Ponte Vomano ancora secco di risultati, ospita il comunale di Villa Vomano il Delfino Curi Pescara di Mister Bonati che vuole tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi. Venendo al match 4-3 per Piccioni piena zeppa di fuori quota con Di Stefano terminale offensivo, portuali che cambiano modulo e tanti titolari con un 3-5-2 dentro Palmisano, De Murtas, Rosini Di Stefano e Palmaricciotti. La partita stenta a decollare, al diciottesimo ci prova Basilico da fuori, Calone risponde rifugiandosi in corner, poi è la volta di Gobbo che se ne va in contropiede, fa tutto bene ma una volta arrivato a tu per tu con Farnese non riesce a concludere. Al trentesimo episodio che cambia l'inerzia del match, Massa sguscia in aria, sposta il pallone e viene steso successivamente per Battistini nessuna esitazione e penalty che lo stesso numero 99 realizza spiazzando Farnese 0-1. La reazione del Ponte Vomano sta tutta nel colpo di testa di Faenza di poco alto con Rosini che non riesce a concludere una volta presentatosi davanti al portiere e fa scivolare i titoli di coda sulla prima frazione. Con le immagini di Mario Giacchetta ci spostiamo nella ripresa, la copiosa pioggia rende il terreno di gioco ancora più ostico e le due formazioni faticano a giocare palla a terra. Al cinquantaduesimo Leonzi colpo di testa di poco al lato, gli ultimi venti minuti sono un vero e proprio assedio del Ponte Vomano. Polisena è davvero scatenato al ventisettesimo, acrobazia deviata in corner e dagli sviluppi ancora il numero sette a staccare di testa, palla out. Subito dopo cross dalla sinistra Polisena incredibilmente sciupa di testa da pochi passi. Al trentottesimo ancora l'esterno locale semina il panico sulla sinistra, tira sul fondo con calore che fa muro in due occasioni. Dal corner successivo ci prova Suma, risponde ancora l'estremo ospite. Il forcing del Ponte Vomano non termina qui al novantesimo. Punizione di Polisena, calore, risponde attento, da poi alla volta di Di Gennaro, prima con una girata, poi ancora con il colpo di testa senza trovare fortuna. Termina dunque così Ponte Vomano, tanto rammarico per le decine di occasioni sprecate, il Delfino Curi Pescara vince soffrendo molto, ma come si suol dire nel calcio l'importante risultato. Ponte Vomano, il Delfino Curi Pescara 0-1. Siamo con Gianmarco Massa, il match winner del match tra Ponte Vomano e il Delfino Curi Pescara. Allora Gianmarco, innanzitutto le emozioni del gol, è arrivato la rigore che ti sei procurato tu stesso. E poi un commento su questa vittoria, è arrivata in maniera, possiamo dire, abbastanza fortunata. Ci hanno provato fino alla fine più di dieci occasioni nella ripresa per il Ponte Vomano, ma l'importante sono i tre punti. Le avete portate a casa e va bene così. Sì, certo, sinceramente la cosa più importante è sicuramente la prestazione che abbiamo fatto, perché parto facendo i complimenti al mister, ma soprattutto ai ragazzi che trovano meno spazio, perché oggi hanno fatto una partita devastante su tutte le seconde palle, tutti i palloni, non mollavano niente fino al 95esimo. Sapevamo di incontrare una squadra che comunque era praticamente all'ultima spiaggia, perché con zero punti finora era una partita quasi uno scontro salvezza, ecco. E siamo stati bravissimi. Poi è ancora meglio se sono riuscito a procurarmi questo rigore, a trasformarlo, e se è il bene della squadra è il rigore, sono contento così. Siamo con mister Piccioni, allora mister purtroppo siamo qui a commentare un'altra sconfitta, però la prestazione c'è stata, specialmente nel secondo tempo, avete creato forse 10-15 occasioni, cosa è mancato? Forse un po' di fortuna. Ma io sono del parere che la fortuna va cercata, purtroppo noi prendiamo gol sempre su errori nostri, quindi alla fine la fortuna ti volta le spalle. Siamo riusciti a perdere senza prendere un tiro in porta, penso che nel nostro portiere non si è sporcati i guanti e la partita l'abbiamo persa. Quindi vuol dire che abbiamo dei limiti, cercheremo di migliorarli, ma ormai è diventata una costante, quindi vuol dire che qualcosa va cambiato, perché io alla squadra onestamente non posso rimproverare nulla, una squadra con 8 under che crea 7-8, 9 palle e gol davanti alla porta e non riusciamo a far gol, e alla prima occasione, ma nemmeno occasione, senza nemmeno avversari riusciamo a prendere gol, vuol dire che qualcosa non va. Però, ripeto, io non mollo di un centimetro, se mi danno la possibilità, già sto pensando alla prossima domenica, perché non si può fare altrimenti nel calcio. Penso che prima o poi debba girare. Grazie. Grazie. Grazie.